Damiano Valsecchi al Big Camp, una volta erano iniziative per te, perché eri un giovane, adesso sei diventato un atleta professionista e vieni qua in vestiti di testimonial. È stata una grande emozione stamattina quando mi hanno accolto con un video che hanno fatto apposto per me, è stata una bella cosa. Adesso ho visto un po' dove giocano questi ragazzi, anche se conoscevo abbastanza bene nel posto, visto che ero venuto quando ero un po' più giovane e devo dire che è una bella iniziativa che porta avanti i Trentino Volli da tanti anni e ho sentito che ogni anno va sempre meglio, ci sono sempre più partecipazioni ed è sicuramente una bella cosa per coinvolgere i giovani a giocare a pallavolo. Tanti foto, tanti autografi, anche perché adesso sei passato dall'altra parte, sei un giocatore della prima squadra e forse te ne stai rendendo proprio adesso, inizialmente adesso, perché è cambiata la prospettiva. Eh sì, più che altro le persone che ti fermano ti chiedono gli autografi, una foto, così, è un po' strano all'inizio però ci sto facendo all'abitudine ed è comunque ogni volta sempre bello. Ultimi giorni di vacanze, poi il 13 agosto si inizia la tua prima avventura in Serie 1 con la prima squadra della Trentino Volli, ti abbiamo già chiesto tutto nelle settimane scorse, allora ti chiediamo come arrivi e come vivi questo countdown per l'inizio dell'attività. Ma non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, adesso comunque anche se sono a casa ho continuato ad allenarmi per recuperare un po' il ginocchio, ho avuto un infortunio l'anno scorso e devo dire che va molto meglio adesso e vediamo un po' la settimana prossima con i lavori di preparazione, corsa, nuoto, così, e vediamo di iniziare bene. Ci sarà tutto a tempo perché si inizia praticamente due mesi prima del campionato. Sì, è una bella cosa questa, anche perché soprattutto arrivare e gettare le basi della preparazione per magari all'inizio del campionato, anche ci sarà la Champions League e quindi è meglio arrivare preparati. Che estate è stata per te questa? L'ho trascorsa un po' dappertutto, ho fatto un mese a Roma, ho finito il campionato per le terapie al ginocchio, dopo sono tornato a casa un po' di giorni e sono andato una settimana a Lignano e basta, sono pronto per iniziare qua a Trento. Ci rivediamo presto in palestra. Ci vediamo, ciao a tutti.